Ciao a tutti, io sono il Dilando Goffilo. Oggi recensione del Superbook numero 64, che comprende due storie. I conigli e rosa colpiscono ancora, che sarebbe il seguito dei conigli e rosa uccidono, e Meteoropatia. Oggi andremo a scoprire Meteoropatia, la storia che ho letto per primo. Sì, lo so, sono strano, io leggo sempre al contrario, non parto mai dalla prima storia, ma anche perché mi incuriosiva di più Meteoropatia. In un'altra recensione, in seguito, scopriremo anche i conigli e rosa colpiscono ancora. Disegni di Montanare Grassani e testi di Mignacco per questa storia, che vede Dylan alle prese con una catastrofe ambientale, una catastrofe naturale. Cosa succede? Dylan, dopo l'ennesimo barile da parte della fidanzata, decide di tornare a casa, molto molto triste, rassegnato. Però, nel frattempo, incontra questa tempesta davvero forte e prorompente. Una tempesta in pieno luglio, che addirittura fa esondare il fiume Tamigi. Un classico, il Maggiolino si ferma nel momento più cruciale. Dylan si vede costretto a proseguire a piedi per tornare a casa, non c'è verso di far ripartire il motore. E proprio in questo momento viene travolto letteralmente dal fiume in piena, che appunto è esondato. Dylan, fortunatamente, come al solito, riesce a salvarsi la pelle. Nuotando verso un appiglio, riesce a ripararsi per dopo riuscire a tornare a casa sano e salvo. Cosa succede? C'è un super cattivo dietro tutto questo. O forse no. Adesso scopriremo il perché. È davvero una storia che all'inizio sembrava insipida e noiosa, ma che dopo 50 pagine, dopo una cinquantina di pagine circa, rivela davvero il suo essere. È una storia davvero eccellente. Cosa succede nel frattempo? Dylan si salva e Mignacco ci fa scoprire la vita di tutti i personaggi che dopo faranno parte dell'avventura sul fine della storia. Quindi ci dà un'infarinatura di quello che è il carattere dei personaggi, gli stessi personaggi che andranno ad aiutare Dylan a risolvere questa vicenda. In giro c'è questo signore che è il super cattivo che è in giro a installare parabole satellitari che in realtà servono per un altro scopo, ma ci arriviamo piano piano. Dylan nel frattempo è depresso. Quando Block gli fa visita, addirittura, per capire appunto cosa c'è dietro tutto questo, Dylan addirittura tratta male Block, il che non mi è piaciuto, però viene scusato perché è davvero depresso Dylan in questa storia. Meteoropatia, infatti, significa, vi faccio un esempio pratico per chi non sapesse cosa vuol dire meteoropatia, quando c'è il sole siamo contenti, quando piove siamo arrabbiati. In questo caso, tempeste, diluvi, esuntazioni di fiumi fanno sì che la gente di Londra sia davvero depressa. Una storia che punta a spiegare la depressione ed eventualmente come combatterla. Lo fa tutto in una maniera metaforica. Comunque, questo arriva dopo, questo qui è il ragionamento finale. Per il momento continuo a parlarvi della storia in sé. Block chiede aiuto a Dylan perché alla polizia è giunta voce che un criminale, un terrorista biologico, non so come si può, come si dice, un terrorista bio, quelli che utilizzano le calamità naturali per fare del male alle persone, appunto, usare attacchi terroristici grazie alle forze della natura verso la gente, Block pensa che ci sia dietro una di quelle persone lì. Quindi, va da Dylan a chiedere se qualche cliente strano abbia mai varcato la storia di casa sua per, appunto, descrivere il suo piano malvagio. Ma Dylan dice che non c'è stato nessun cliente da un mese a questa parte, quindi è da escludere che uno dei tantissimi clienti folli di Dylan faccia parte di questo complotto. Proseguendo troviamo della gente che, appunto, viene investita a sua volta da queste calamità naturali come, ad esempio, una pioggiana di grandine, grossa così, proprio grossa come palline da baseball. Tanta gente viene ricoverata all'ospedale, tornadi, addirittura qui forse Mignacco esagera con la sceneggiatura, però, vabbè, diciamo che in un clima di catastrofe ci può anche stare molto strano anche nel mondo immaginario di Dylan Dogg, ma diciamo che in qualche modo la passiamo, la storia del tornado. E qui, per ultimo, ci viene anche presentato questo ragazzo che fa il meteorologo. Un meteorologo che è davvero incompetente, viene preso dalla televisione solamente per camber l'aspetto e sarà anche lui un personaggio principale nel corso della vicenda. Infatti verrà rapito da una banda di ragazzi, di malviventi, che ne approfittano di questa tempesta, di tutto il caos di Londra per andare a rapinare i vari negozi e supermercati. Quindi cosa succede alla fine? Dylan Testardo, invece che ascoltare i consigli di Graucio, appunto gli consigliava capo stai a casa perché col tempo che c'è non è necessario uscire, Dylan in questa storia sembra un po' appunto idiota nel compimento di alcune azioni, ma questo è scusato sempre dal fatto che è depresso, quando si è depressi non si capisce bene quello che si va a fare. Quindi Dylan che si comporta in una maniera un po' diversa dal solito, troviamo il lato depresso di Dylan. Davvero non ragionevole, ma proprio per nulla. Quindi va, diciamo che, piuttosto che stare al sicuro, va di proposito a farsi ammazzare, va di proposito a cercare il pericolo. Di solito è così, ma in un altro modo. Qui invece vediamo proprio Dylan quasi contento di andare a uccidersi, davvero una cosa bruttissima. Cosa succede quindi? Questa banda di ragazzi che va a fare scorribando in giro per il negozio, approfittando la situazione, rapiscono il giornalista perché danno la colpa a lui del meteo brutto. Logicamente, visto che questi ragazzi qui, penso che il loro intelletto sia pari a quello di una gallina, non è che capiscono che il clima atmosferico fa di per sé. Non è colpa di un meteorologo se piove, ad esempio. Però loro sono talmente intelligenti da non capire questa cosa. Troviamo anche altri personaggi. Questo è un personaggio, uno scrittore, che ha perso l'amico durante l'uragano. Ogni volta che c'è stato l'uragano, la tempesta, l'esondazione, ogni personaggio viene da lì. Quindi ogni catastrofe, ognuno ha la sua storia. Ad esempio ha perso un amico durante un avvenimento, un determinato avvenimento, e lo ritroviamo sempre qui ad aiutare Dylan. Liberano il giornalista, e fino a qui appunto la storia sembra non avere un senso, essere insipida, perché diciamo, vabbè, Dylan che affronta un evento catastrofico, va ad aiutare la gente. Ne abbiamo già viste di storie come queste, ma alla fine si scopre il ragionamento finale che ci propone Mignacco. Cosa succede? Dylan riesce a salvare la gente che c'era da salvare, tutti i libri vanno a cercare il super cattivone di turno, che assume le spoglie del dio del tempo climatico che si usava una volta nelle, diciamo, tribù antiche. Questo è il rapinatore di negozi, che va insieme a Dylan a, vanno ad aiutarsi a vicenda. Riescono a fermare questo individuo, che è lo stesso che montava le antenne paraboliche, che abbiamo visto prima andare a casa di Dylan stesso, quindi che andava a montare le antenne. Adesso qua non sto qui a cercarvelo. Questo per far che cosa? Lui montava delle antenne che prendevano la depressione della gente e la rivoltava contro la gente stessa. Quindi utilizza il tempo per, diciamo, ripaga con la stessa moneta la gente. La gente si comporta male con il mondo, il mondo si comporta male con la gente. Lo fa attraverso, appunto, il meteo. Qui troviamo uno studio, un laboratorio molto grezzo, molto anni 50. Infatti le attrezzature che compongono questo laboratorio forse sono, non succede niente, quindi forse sono finte, sono tutta una scenografia. Questo lo capiamo perché questo signore qua che, appunto, assume le veci del supercattivo tenta di imprigionare Dylan Dogg, ma in realtà non fa niente, non ha alcun superpotere. Né le antenne che prendono il male dalla gente e le riversano su loro stesse, non succede niente. Tutto un blef, si può dire. E questo varrà scoperto dalla polizia. Qui era tutta una sceneggiatura. Tutto falso. Quindi come si spiega tutto ciò? Dylan, secondo lui, è la mente umana che ha scatenato tutto. E qui troviamo il ragionamento finale di Dylan. Per i meteorologi il tempo è cambiato in seguito all'arrivo dell'anticiclone atlantico, avvenuto con qualche settimana di ritardo sul previsto. Tutto normale, insomma. Questo qui è il ragionamento di Dylan riguardo al pensiero dei meteorologi alla fine della storia. Poi, invece, Dylan dà la sua versione, che è appunto l'energia più potente dell'universo, che per adesso sfugge a ogni esame misurazione scientifica, è quella prodotta dalla mente umana. Quindi, secondo Dylan, è stata tutta opera dei residenti di Londra. Quindi che hanno preso la loro depressione e l'hanno riversata sulla città stessa, scatenando il caos. Quindi una storia che finisce nel migliore dei modi. All'inizio non sembrava per niente essere una storia di Dylan Dog, ma alla fine Mignacco rivela davvero tutta la sua arte. Disegni di Montanare e Grassani che in questa storia non convincono, perché, come già detto in altre recensioni, Montanare e Grassani sono perfetti, una copia perfetta per quanto riguarda la creazione e ricreazione dello splatter su carta. Mentre qui, dove seguiamo le vicende, diciamo, di un Dylan non splatter, quindi un Dylan Dog normale che appunto vuole aprirci un pensiero riguardo alla potenza della nostra mente, non troviamo alcuna scena horror, alcuna scena splatter, proprio niente di niente, solo un po' di azione e ragionamento finale che vi ho fatto un secondo fa, li reputo inadatti per questa storia. Sempre disegni validissimi, ma davvero inadatti per coprire una storia come questa. Secondo me Montanare e Grassani devono fare solo lo splatter, che è quello che gli riesce davvero bene. Per il resto non era necessario, potevano chiamare un qualsiasi altro disegnatore per proporre appunto queste vicende. Non sono nella loro storia specifica, una storia che poteva essere assegnata a chiunque, diciamo. Non era necessario appunto chiamare Montanare e Grassani, che sono bravissimi, ma per fare lo splatter. Bene, per il momento è tutto. Se il video ti è piaciuto, condividilo. dog.deland33.au.it per le tue domande e per contatti. Noi ci vediamo al prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo. Grazie. Grazie.